ad alta voce moni ovadia legge il nome della rosa di umberto ecco quinto giorno nona dove si amministra la giustizia e si ha la imbarazzante impressione che tutti abbiano torto bernardo gui si pose al centro del grande tavolo di noce nella sala del capitolo accanto a lui un domenicano svolgeva le funzioni di notaio e due prelati della legazione pontificia gli stavano a lato come giudici il cellario era in piedi davanti al tavolo tra due arcieri l'abate si rivolse a guglielmo sussurrandogli non so se la procedura sia legittima il concilio laterano del 1215 ha sancito nel suo canone ventisettesimo che non si possa citare qualcuno a comparire davanti a giudici che seggano a più di due giornate di marcia dal suo domicilio qui la situazione è forse diversa è il giudice che viene da lontano ma l'inquisitore è sottratto a ogni giurisdizione regolare disse guglielmo e non deve seguire le norme del diritto comune gode di speciale privilegio e non è neppure tenuto ad ascoltare gli avvocati guarda il cellario remigio era ridotto in uno stato miserevole si guardava intorno come una bestia spaurita come se riconoscesse i movimenti e i gesti di una paventata liturgia se lo sventurato remigio era in preda ai propri terrori bernardo gui conosceva dal canto proprio i modi per trasformare in panico la paura delle proprie vittime egli non parlava mentre ormai tutti si attendevano che desse inizio all'interrogatorio teneva le proprie mani sulle carte che aveva davanti fingendo di riordinarle ma distrattamente lo sguardo era in vero puntato sull'accusato ed era uno sguardo misto di ipocrita indulgenza come per dire non temere sei nelle mani di un consesso fraterno che non può che volere il tuo bene di gelida ironia come per dire non sai ancora quale sia il tuo bene e io tra poco te lo dirò di spietata severità come per dire ma in ogni caso io sono qui il tuo solo giudice e tu sei cosa mia tutte cose che il cellario sapeva già ma il silenzio e l'indugio del giudice servivano a fargliele ricordare quasi assaporare meglio affinché anziché scordarsene egli vie più ne tra esse motivo di umiliazione la sua inquietudine si trasformasse in disperazione e del giudice diventasse cosa esclusiva c'era molle tra le sue mani finalmente bernardo rupe il silenzio pronunziò alcune formule di diritto disse ai giudici che si procedeva all'interrogatorio dell'imputato per due delitti altrettanto odiosi di cui uno era tutti evidente ma dell'altro meno spregevole perché in effetti l'imputato era stato sorpreso a commettere l'omicidio quando era ricercato per delitto di eresia l'aveva detto il cellario si nascose il volto tra le mani che muoveva a fatica perché erano strette in catene bernardo diede inizio all'interrogatorio chi sei tu chiese primigio da varagine credo di essere nato 50 anni fa e sono entrato ancora fanciullo nel convento dei minori di varagine e come accade che ti trovi oggi nell'ordine di san benedetto anni fa quando il pontefice manò la bolla a santa romana siccome temevo di venire contagiato dall'eresia dei fraticelli pur non avendo mai aderito alle loro proposizioni pensai fosse più utile alla mia anima peccatrice sottrarmi a un ambiente carico di seduzioni e ottenni di essere ammesso tra i monaci di questa abbazia dove da più di otto anni servo come cellario ti sei sottratto alle seduzioni dell'eresia motteggiò bernardo ovvero ti sei sottratto all'inchiesta di chi era preposto a scoprire l'eresia sradicarne la mala pianta e i buoni monaci cluniacensi ho creduto di compiere un atto di carità accogliando te e quelli come te ma non basta cambiare saio per cancellare dall'anima la torpitudine della depravazione erettica e per questo noi siamo ora qui a investigare cosa si aggiri per i recessi della tua anima impenitante e cosa tu abbia fatto prima di pervenire in questo santo luogo la mia anima è innocente non so cosa voi intendiate quando parlate di depravazione eretica disse cautamente il cellario lo vedete esclamò bernardo rivolgendosi agli altri giudici tutti così costoro quando uno di loro viene arrestato si presenta a giudizio come se la sua coscienza fosse tranquilla e senza rimorsi e non sanno che questo è il segno più evidente della loro colpa perché il giusto al processo si presenta inquietto domandategli se conosce la causa per cui avevo predisposto il suo arresto la conosci remigio signore rispose il cellario sarei lieto di apprenderla dalla vostra bocca fui sorpreso perché mi parve che il cellario rispondesse alle domande di rito con parole altrettanto rituali come se ben conoscesse le regole dell'istruttoria e i suoi tranelli e da tempo fosse stato istruito ad affrontare un simile evento ecco esclamava intanto bernardo la tipica risposta dell'eretico impenitante percorrono sentieri da volpi ed è molto difficile coglierli in fallo perché la loro comunità mette il loro diritto a mantire per evitare la dovuta punizione essi ricorrono a risposte tortuose tantando di trarre in ingano l'inquisitore che già deve sopportare il contatto con gente tonto spreggevole dunque fra remigio tu non hai avuto mai nulla a che vedere coi detti fraticelli offrati della povera vita o beghini io ho vissuto le vicende dei minori quando lungo si discusse sulla povertà ma non sono mai appartenuto all'assetto dei beghini vedete disse bernardo nega di essere stato beghino perché i beghini pur partecipando della stessa eresia dei fraticelli considerano questi ultimi un ramo secco dell'ordine francescano e si ritengono più puri e perfetti di loro ma molti dei comportamenti degli uni sono comuni agli altri puoi negare remigio di essere stato visto in chiesa rattrappito col viso volto verso il muro prosternato con la testa coperta dal cappuccio anziché inginocchiato a mani giunte come gli altri uomini anche nell'ordine di san benedetto ci si prosterna a terra nei momenti dovuti io non ti chiedo cosa hai fatto nei momenti dovuti ma in quelli non dovuti quindi non neghi di avere assunto l'una o l'altra postura tipica dei beghini ma tu non sei beghino hai detto allora dimmi in che cosa credi signore credo in tutto ciò a cui crede un buon cristiano che santa risposta e a cosa crede un buon cristiano a quello che insegna la santa chiesa e quale santa chiesa quella che ritengono tali credenti che si definiscono perfetti gli pseudo apostoli i fraticelli erettici o la chiesa che si paragonano alla merettrice di babilonia in cui tutti noi invece dice fermamente crediamo signore disse smarito il cellario ditemi voi quale credete che sia la vera chiesa io credo che sia la chiesa romana una santa e apostolica retta dal papa e dai suoi vescovi così io credo disse il cellario amirevole astuzia amirevole arguzia di ditto l'avete udito e gli vuole intendere che gli crede che io creda a questa chiesa e si sottrae al dovere di dire in che cosa creda lui ma conosciamo bene queste arti da faina veniamo al dunque credito che i sacramenti siano stati istituiti da nostro signore che per fare una retta penitenza occorre a confessarsi dai servi di dio che la chiesa romana abbia il potere di sciogliere legare su questa terra ciò che sarà legato e sciolto in cielo e non dovrei forse crederlo non ti domando cosa dovresti credere ma cosa credi io io credo a tutto ciò che voi e gli altri buoni dottori mi ordinate di credere disse il cellario spaventato ah ma i buoni dottori a cui fai allusione non sono forse coloro che commandano la tua setta è questo che volevi intendere quando parlavi dei buoni dottori da questi perversi mantitori che si ritengono gli unici successori degli apostoli che ti rifai per riconoscere i tuoi articoli di fede tu insinui che se io credo a ciò che loro credono allora mi crederai altrimenti crederai solo loro non ho detto questo signore balbettò il cellario voi me lo fate dire io credo a voi se voi mi insegnate ciò che è bene a protervia gridò bernardo battendo il pugno sul tavolo ripetti a memoria con bieca determinazione il formulario che si insegna nella tua setta tu dici che mi crederai solo se predicherò ciò che la tua setta ritiene sia il bene così hanno sempre risposto gli pseudo apostoli e così ora tu rispondi forse senza vedertene perché riaffiorano le tue labbra le frasi che un tempo ti furono insegnate onde inganare gli inquisitori ed è così che stai accusandoti con le tue stesse parole io cadrei nella tua trappola solo se non avessi una lunga esperienza di inquisizione ma veniamo alla vera questione uomo perverso hai mai inteso parlare di gherardo segalelli da parma? ne ho inteso parlare disse il cellario impallidendo se mai si fosse potuto ancora parlare di pallore per quel viso disfatto hai mai inteso parlare di fradolcino da novara? ne ho inteso parlare lo hai mai visto di persona? hai conversato con lui? il cellario stette qualche istante in silenzio come per valutare sino a che punto gli fosse convenuto dire una parte della verità poi si decise e con un filo di voce l'ho visto e gli ho parlato più forte! gridò Bernardo che finalmente si possa udire una parola vera scendere dalle tue labbra quando gli hai parlato? signore? disse il cellario ero frate in un convento del Novarese quando la gente di Dolcino si radunò da quelle parti e passarono anche presso il mio convento e al principio non si sapeva bene chi fossero tu menti come poteva un francescano di Varagine essere in un convento del Novarese tu non eri in convento tu facevi già parte di una bomba di fraticelli che percorrevano quelle terre vivendo di elemosine e ti sei unito ai dolcinieri come potete affermare questo signore? disse tremando il cellario ti dirò come posso onzi devo affermarlo disse Bernardo e ordinò che fosse fatto entrare Salvatore la vista dello sciagurato che certamente aveva passato la notte in un interrogatorio non pubblico e più severo mi mosse a pietà il volto di Salvatore l'ho detto era di solito orribile ma quel mattino sembrava ancora più simile a quello di un animale Bernardo lo ha torturato sussurrai a Guglielmo per nulla rispose Guglielmo un inquisitore non tortura mai la cura del corpo dell'imputato è affidata sempre al braccio secolare ma è la stessa cosa dissi niente affatto non lo è per l'inquisitore che ha le mani immonde e non lo è per l'inquisito che quando viene l'inquisitore trova in lui un improvviso appoggio un lenimento alle sue pene gli apre il cuore guardai il mio maestro voi state cegliando disse Sgomento ti paiono cose su cui cegliare rispose Guglielmo Salvatore raccontò a mise di aver raccontato durante la notte una parte di quella storia che io avevo già ricostruito i suoi vagabondaggi come Fraticello, Pastorello e Pseudo Apostolo e come ai tempi di Fradolcino egli avesse incontrato Remigio tra i dolciniani in più aggiunse che l'eresiarca Dolcino vicino alla sconfitta e alla cattura aveva affidato a Remigio alcune lettere da portare egli non sapeva dove o a chi Remigio aveva sempre recato quelle lettere con sé senza osare recapitarle e al suo arrivo all'abbazia timoroso di trattenerle ancora ma non volendo distruggerle le aveva consegnate al bibliotecario sì, proprio a Malachia perché le nascondesse da qualche parte nei recessi dell'edificio mentre Salvatore parlava il cellario lo guardava con odio e a un certo punto non poté trattenersi dal gridagli serpe scimbia la sciva ti sono stato padre, amico, scudo così mi ripaghi Salvatore guardò il suo protettore oramai bisognoso di protezione e rispose a fatica signor Remigio fosse che potesse ero tuo e mi eri dilectissimo ma tu non conosci la famiglia del Bargello qui non ha abet caballum vadat cum pede pazzo gli gridò ancora Remigio speri di salvarti non sai che morirai anche tu di che hai parlato sotto tortura di che hai inventato tutto saremo indulgenti quanto ci sarà concesso dal nostro ufficio disse l'inquisitore e valuteremo con paterna benevolenza la buona volontà con cui ci hai aperto l'animo tuo vai vai torna a meditare nella tua cella e spera nella misericordia del Signore ora abbiamo a dibattere una questione di ben altro momento dunque Remigio tu portavi con te delle lettere di dolcino e le desti al confratello tuo che è a cura della biblioteca non è vero non è vero gridò il cellario come se quella difesa avesse ancora qualche efficacia e giustamente Bernardo lo interruppe ma non è da te che ci serve un assenso bensì da Malachia da Hildesheim fece chiamare il bibliotecario e non era tra i presenti lo sapevo che stava nello scriptorium o intorno all'ospedale a cercare Bencio il libro andarono a cercarlo e quando apparve turbato e cercando di non guardare in viso nessuno Guglielmo mormorò con disappunto e ora Bencio potrà fare ciò che vuole ma si sbagliava perché vide il volto di Bencio spuntare al di sopra delle spalle di altri monaci che si affollavano alle porte della sala per seguire l'interrogatorio lo indicai a Guglielmo pensammo allora che la curiosità per quell'evento fosse ancora più forte della sua curiosità per il libro apprendemmo dopo che a quel punto egli aveva già concluso un suo ignobile mercato Malachia apparve dunque davanti ai giudici senza mai incrociare gli occhi con quelli del cellario Malachia disse Bernardo stamattina dopo la confessione resa nella notte da Salvatore vi ho domondato se avevate ricevuto dell'imputato qui presente delle lettere Malachia urlò il cellario poco fa mi hai giurato che non farai nulla contro di me Malachia si volse appena verso l'imputato cui dava le spalle e disse a voce bassissima che quasi non lo udivo non ho spergiurato se potevo fare qualcosa contro di te l'avevo già fatto le lettere erano state consegnate al signor Bernardo questa mattina prima che tu ci dessi Severino ma tu sai devi sapere che io non ho ucciso Severino tu lo sai perché eri già là io? domandò Malachia io sono entrato laggiù dopo che ti hanno scoperto e quanto anche? interruppe Bernardo cosa cercavi tu da Severino Remigio? il cellario si voltò a guardare Guglielmo con occhi smarriti poi guardò Malachia poi ancora Bernardo ma io gli ho udito stamane frate Guglielmo qui presente dire a Severino di custodire certe carte io da ieri notte dopo la cattura di Salvatore temevo che si parlasse di quelle lettere allora tu sai qualcosa di quelle lettere esclamò trionfalmente Bernardo il cellario oramai era in trappola si trovava stretto tra due urgenze scagionarsi dall'accusa di eresia e allontanar da sé il sospetto di omicidio risolse probabilmente di fronteggiare la seconda accusa di istinto perché ormai agiva senza regola e senza consiglio parlerò delle lettere dopo giustificherò dirò come ne venni in possesso lasciate che spieghi cos'è accaduta stamane io pensavo che di quelle lettere si sarebbe parlato quando vedi Salvatore cadere nelle mani del signor Bernardo è anni che la memoria di quelle lettere mi tormenta il cuore allora quando di Guglielmo e Severino parlare di alcune carte non so preso dalla paura pensai che Malachia se ne fosse sbarazzato e le avesse date Severino volevo distruggerle così andai da Severino la porta era aperta e Severino era già morto mi sono messo a frugare tra le sue cose per cercare le lettere avevo solo paura Guglielmo mi sussurrò all'orecchio povero stupido intimorito da un pericolo si è cacciato a testa bassa in un altro ammettiamo che tu dica quasi dico quasi la verità intervenne Bernardo tu pensavi che Severino avesse le lettere e le hai cercate da lui e perché hai pensato che le avesse e perché hai ucciso prima anche gli altri confratelli forse pensavi che quelle lettere da tempo circolassero tra le mani di molti forse si usa in questa abazia dar la caccia alle reliquie degli erettici bruciati vidi la batte trasalire non vera nulla di più insidioso dell'accusa di raccogliere reliquie di erettici e Bernardo era molto abile a mescolare i delitti all'eresia e il tutto alla vita dell'abbazia fu interrotto nelle mie riflessioni dal cellario che gridava che egli non aveva nulla a che vedere con gli altri delitti Bernardo indulgentemente lo tranquillizzò non era quella per il momento la questione su cui si stava discutendo egli era interrogato per delitto di eresia e non tentasse e qui la sua voce si fece severa di distogliere l'attenzione dai suoi trascorsi eretici parlando di Severino o cercando di rendere sospetto malachia che si tornasse dunque alle lettere malachia da Hildesheim disse rivolto il testimone voi non siete qui come accusato stamane avete risposto alle mie domande e alla mia richiesta senza tentare di nascondere nulla ora ripetete qui ciò che mi avete detto stamane e non avrete nulla da temere ripeto quanto ho detto stamane disse malachia dopo poco tempo che era giunto quassù Remigio cominciò a occuparsi delle cucine e avemmo frequenti contatti per ragioni di lavoro io come bibliotecario sono incaricato della chiusura notturna di tutto l'edificio e quindi anche delle cucine non ho motivo di celare che diventammo fraterni amici né io avevo motivo di nutrire sospetti contro costui ed egli mi raccontò che aveva con sé alcuni documenti di natura segreta confidati in confessione che non dovevano cadere in mani profane e che non ardiva tenere presso di sé siccome io custodivo l'unico luogo del monastero interdetto a tutti gli altri mi chiese di conservargli quelle carte lontano da ogni sguardo curioso io ma consentì non presumendo che i documenti fossero di natura eretica e non li lessi neppure collocandoli nel più inattingibile dei penetrali della biblioteca ed allora mi ero scordato di questo fatto sino a che questa mattina il signore inquisitore me ne ha fatto cenno e allora sono andato ritrovarli e glieli ho consegnati l'abate prese la parola corrucciato perché non mi hai informato di questo tuo patto col cellario la biblioteca non è riservata a cose di proprietà dei monaci l'abate aveva messo in chiaro che l'abbazia non aveva nulla che vedere con quella vicenda signore rispose confuso ma la chiamì mi era parsa cosa di poca importanza ho peccato senza malizia certo certo disse Bernardo in tono cordiale siamo tutti convinti che il bibliotecario agito in buona fede e la franchezza con cui ha collaborato con questo tribunale non è la prova prego fraternamente la magnificenza vostra di non fargli carico di quella antica imprudenza noi crediamo a Malachia e gli chiediamo solo che ci confermi ora sotto giuramento che le carte che ora gli mostro sono quelle che lui mi diede stamane e sono quelle che Remigio da Varagini gli consegnò anni fa dopo il suo arrivo all'abbazia mostrava due pergamene che aveva tratto dai fogli posati sul tavolo Malachia le guardò e disse a voce ferma giuro su Dio Padre Onnipotente sulla Santissima Vergine e su tutti i Santi che così è ed è stato mi basta disse Bernardo andate pure mentre Malachia usciva a testa bassa poco prima che arrivasse alla porta si udì una voce elevarsi dal gruppo dei curiosi ammassati sul fondo della sala togli da scandevi le lettere e lui ti mostrava il culo dei noizzi in cucina scoppiarono alcune risate Malachia uscì rapido dando spintoni a destra e a sinistra avrei giurato che la voce era quella di Aymaro ma la frase era stata gridata in falsetto l'abate paunazzo in volto urlò di far silenzio e minacciò tremende punizioni per tutti intimando ai monaci di sgombrare la sala Guglielmo mi disse il cellario non era solo un peccatore carnale per il bene suo faceva anche a Ruffiano ma di questo a Bernardo non importa nulla se non quel tanto che mette in imbarazzo Abbone mediatore imperiale fu interrotto proprio da Bernardo che ora si rivolgeva a lui mi interesserebbe poi sapere da voi frate Guglielmo di quali carte stavate parlando Stamoni con Severino quando il cellario vi udì e ne trasse avaglio Moni Ovadia ha letto Il nome della rosa di Umberto Eco a cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini Chiara Valerio regia di Chiara D'Ambros per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it a cura di